La rotta balcanica in bicicletta, sesta puntata, Sofia. Le zone di frontiera sono spesso riconoscibili poiché il paesaggio cambia o possiede delle caratteristiche fisiche particolari. Una montagna, un fiume, un valico possono demarcare la separazione tra territori diversamente amministrati. Anche l'antropizzazione del territorio può cambiare. L'architettura o le strade sono spesso gli esempi più evidenti. Sul triplice confine bulgaro, turco, greco, una cosa che cambia totalmente, senza però mostrarsi chiaramente, è la legge. Ognuno dei tre paesi confinanti ha le sue regole, ma più ci si avvicina al confine, più le leggi diventano fluide, inapplicate, inesistenti. Per le persone in movimento lungo queste zone, gli stati non fanno nulla per proteggere e assicurare i diritti umani, anche se sulla carta li contemplano. Se succede qualcosa, le persone non possono fare nessuna azione legale, non possono appellarsi ad un avvocato, non vengono nemmeno ascoltate. Specialmente nel caso dei respingimenti non si capisce nemmeno a quale tribunale una persona potrebbe appellarsi. L'unica speranza, le uniche denunce vengono dalle organizzazioni, dagli attivisti e dalle attiviste, dai giornalisti e dalle giornaliste e dalle poche altre persone che stanno sulle frontiere. Sono Giacomo, sono un cicloattivista e questo è La rotta balcanica in bicicletta, un documentario radiofonico Don Pierce. Pedalando nella zona di Armalli, a pochi chilometri dalla piccola cittadina, mio primo sguardo sulla Bulgaria, mi imbatto in un grande edificio che ha le sembianze di una prigione. Mi trovo nel paesino di Liubimez, sulla strada principale. Fermo la bici davanti ad un lungo muro ornato da filo spinato che circonda una serie di edifici a due piani. Non mancano le torrette di osservazione, videosorveglianza, sbarre alle finestre. Avvicinandomi a quel che mi sembra essere il portone d'ingresso, mi bruciano gli occhi a vedere la bandiera dell'Unione Europea a fianco a quella della Bulgaria. Non è un carcere tradizionale, questo luogo è riservato ai migranti. È la risposta delle istituzioni europee al fenomeno migratorio, una struttura che non a caso si trova a pochi chilometri dal triplice confine bulgaro-greco-turco. Se non vengono respinte in Turchia, le persone in viaggio verso l'Europa occidentale finiscono qui. Infatti me lo diceva anche Hamid di Mission Wings. Quando arrivano in Bulgaria, se non sono stati respinti in Turchia o se non continuano direttamente la rotta fino in Serbia senza essere scoperti, vengono chiuse nel centro di detenzione per essere identificate. Lì possono fare anche domanda di asilo. Successivamente vengono rilasciate e messe in un campo aperto. Della prigione per migranti di Liubimez me ne aveva parlato Giuseppe del collettivo Rotte Balcaniche Alto Vicentino. La maggioranza vengono beccate dalla polizia e transitano per un periodo che va dai minimo 20 giorni a circa tre mesi nel centro di detenzione o di Liubimez oppure di Busmanzi. Dal centro di detenzione esistono procedure di rimpatrio rapido per chi non ha assolutamente diritto a presentare domanda oppure per quanto riguarda i nordafricani che la domanda viene sempre respinta, la domanda di asilo, vengono messi per un certo periodo nel campo di Pastrogor dopodiché devono uscire dalla Bulgaria. Liubimez è CPR dove di fatto le persone passano, entrano. È un'enorme prigione perché non è piccola. Mi sembra che contenga dalle 5 alle 600 persone. Alcune possono fare domanda d'asilo e poi essere spostate nei campi aperti. Alcune vengono respinte. Dentro questo luogo luogo vengono chiuse famiglie, vengono chiuse donne, vengono chiusi uomini. I minori non accompagnati vengono messi nelle stesse sezioni degli uomini. I pestaggi sono frequenti. È un luogo che dovrebbe esistere perché il trattamento è assurdo, insomma, è intollerabile. Invece purtroppo questi luoghi esistono, anzi, pare non bastino più. Infatti l'Italia e altri paesi si stanno organizzando per costruirne di nuovi. Eppure è chiaro cosa succede nelle prigioni per migranti, luoghi che sembrano creati apposta per accelerare la vulnerabilizzazione delle persone in movimento tramite una serie di violazioni ben documentati in tutti i paesi in cui essi esistono. Agli Ubimez, nello specifico, si sono verificati maltrattamenti fisici da parte del personale. Le camere sono sporche e sovraffollate. Manca la privacy. Per i minori che passano per questo luogo dell'orrore, niente cibo e vestiti adatti, niente giocattoli, niente pannolini per i neonati e materiale sanitario per le donne. L'assistenza sanitaria di base è largamente insufficiente. Nessuna possibilità di visite specialistiche, comprese ginecologia e ostetricia. Mancano gli interpreti. Di conseguenza le persone non sanno perché si ritrovano lì. Non hanno informazioni sulla propria situazione giuridica. Se l'Europa dei diritti e delle libertà imprigiona i migranti per illeciti amministrativi e non per aver commesso reati, un giorno potrebbe decidere di farlo anche con me. Magari per una questione banale, come succede ai migranti, per non possedere o per non aver rinnovato, un documento. La caccia ai cosiddetti migranti irregolari avviene in tutti i paesi dell'Unione, ma in quelli periferici l'attenzione è molto più elevata. La Bulgaria si rivela particolarmente abile nel ruolo di difensore dei confini europei, luoghi in cui il diritto internazionale e i diritti umani vengono ignorati. L'omissione di soccorso è una regola e ai parenti dei cadaveri non viene permesso di recarsi negli obitori europei per identificarli, poiché non possiedono il passaporto giusto. Cioè, noi perché siamo andati in Bulgaria? Perché con quelli che sono stati i report nell'ultimo anno, nel 2022, il passaggio verso la Bulgaria e non verso la Grecia, soprattutto perché la Grecia ha iniziato a sicuritizzare molto di più il confine con la Turchia, ha fatto sì che la Bulgaria diventasse primo passaggio e prima scelta per le persone in movimento che partivano poi dalla Turchia. Il tratto da fare è molto lungo, parte da almeno 10-15 km prima del confine turco e la parte più difficile termina 25 km dopo il confine turco, in mezzo a boschi, in mezzo a colline, in mezzo a campi. Alcune persone si arrendono, decidono proprio di fermarsi, non ce la fanno più. Alcune persone hanno problemi fisici, quindi si rompono un piede, feriscono e quindi vengono abbandonate dal gruppo, il gruppo decide di continuare. Questa cosa molto dolorosa anche. Alcune persone vivono poi un trauma perché si sentono abbandonate e poi ci sono le persone che muoiono per complicazioni fisiche che uno può avere normalmente, magari durante un viaggio che dura giorni, faticoso. C'è questo uso di questa anfetamina che si chiama Captagon, appunto, che le persone prendono per sopportare il viaggio. Quindi per 3 o 4 giorni le persone non sentono sete, non sentono fame, non sentono fatica. Poi però la prima cosa che parte sono i reni e di conseguenza il cuore e queste persone le vedi che muoiono ad occhi aperti, anche giovani. Lo scorso anno c'è stato un incidente che ha coinvolto un autobus organizzato dai trafficanti pieno di persone che erano in transito qui in Bulgaria. Il bus si è schiantato con un auto sulla quale viaggiavano due poliziotti che sono morti. È più o meno in quel periodo che la violenza alle frontiere è aumentata. Molto spesso le persone ci raccontano di essere state picchiate, derubate o di come la polizia abbia usato i cani per attaccarle. Ci riferiscono anche di essere stati obbligati a spogliarsi, talvolta completamente e anche con la neve, e respinte in Turchia. La chiara intenzione di queste pratiche è quella di umiliare le persone ed effettivamente molti ne rimangono traumatizzati. Lungo questa frontiera vengono recuperati cadaveri con i piedi rotti o uccisi con colpi di arma da fuoco. C'è stato addirittura un caso di un corpo trovato con una pallottola in testa. C'è anche un video realizzato da un giornalista con una telecamera nascosta che mostra un centro di detenzione illegale nel quale si vede una gabbia molto piccola dove le persone restano chiuse per giorni prima di essere riportate in Turchia. In quel video si vedono persone in uniforme. Naturalmente i politici negano queste pratiche perché sono illegali. Devo dire che a causa di queste violenze è effettivamente difficile passare il confine. Infatti molte delle persone che incontriamo ci hanno provato anche 10 o 20 volte prima di riuscirci. Beh, nei confronti delle persone in movimento la Border Police ha un atteggiamento che è feroce. Violenze, minacce ma soprattutto pushback che spesse volte sono violenti che ricordiamo sono illegali. La scelta di stare nei boschi da parte nostra, di soccorrere le persone è di frapporsi fra la polizia e le persone in movimento e vediamo che noi siamo anche dei privilegiati. Cioè alla fine la polizia ci minaccia, ci ha fatto dei warning, avvisi scritti che se ci vedranno ancora nei boschi ci accuseranno di traffico ma alla fine secondo noi è solo carta straccia. Quindi tentano in tutti i modi di impedire la nostra presenza perché la presenza di internazionali può dire qualcosa, insomma, ecco, gli dà fastidio. Lì, in quelle zone lì, di fatto sono loro che comandano nella maniera più assoluta. C'è stato un boom durante agosto di soccorsi, persone che effettivamente erano nel bosco e avevano bisogno di aiuto in quel momento. Successivamente sono cominciate ad arrivare anche molte richieste di parenti sparsi per il mondo, dalla Turchia, dalla Siria, ma anche alcuni parenti in Europa, già in Europa, che ci chiedevano notizie dei loro figli o dei loro parenti che erano scomparsi da mesi e avevano una location che non avevano mai mandato a nessuno perché non sapevano chi contattare per portare aiuto a queste persone e nel momento in cui ricevevano il nostro numero ci scrivevano per chiedere di andare a controllare nel posto. C'è tutta la questione delle missing people, delle persone che non si ritrovano più neanche negli obitori, a cui lo Stato bulgaro non dà risposta e ci sono centinaia di persone in cerca dei propri parenti in Bulgaria. I cadaveri che vengono ritrovati vengono, spero, ragionevolmente portati tutti nell'unico obitorio di Burgas, dove la dottoressa dichiara di avere decine e decine di cadaveri non identificati da una parte. Dall'altra le pratiche di riconoscimento della famiglia, quindi c'è la necessità dell'identificazione attraverso il DNA, perché alcune volte i corpi sono irriconoscibili, vengono anche mangiati dagli animali. DNA che è una cosa, una pratica assolutamente possibile e che noi sappiamo ad esempio che molte famiglie hanno fatto, ma che non hanno trovato alcun tipo di riscontro nei cadaveri presenti nell'obitorio. Quindi c'è una certa percentuale di salme che non viene ritrovata. Il non ritrovare il cadavere non è che ti mette il cuore in pace, anzi alimenta nuove speranze, è in un ospedale, è in una prigione e questa è la cosa più dolorosa che abbiamo incontrato. Nel senso che trovare la persona morta, documentare il fatto che è morta, mettersi in contatto con la famiglia, dirgli che siamo stati lì, che abbiamo vegliato il corpo, è una cosa importante per la famiglia e a un certo punto mette la famiglia in certo tipo di pace, anche se insomma la disperazione è forte. Questo non ritrovare i corpi è grave, è gravissimo. Riparto dal sud-est della Bulgaria in salla alla bicicletta e in due giorni pedalo da Harmalli a Sofia, 285 chilometri. La notte precedente al mio arrivo nella capitale mi ritrovo nel paesino di Vetrendol, nel quale arrivo quando fa già buio. Mi reco verso l'unica struttura esistente nel raggio di chilometri. Suono la porta di una casa con un grande giardino, mi apre un signor anziano, mi spiega che fino a poco tempo prima gestiva un campeggio con la moglie che però ora è malata e quindi hanno chiuso l'attività. Dato l'orario mi invita comunque ad accamparmi in giardino. La mattina mi offre la colazione e chiacchieriamo del più e del meno. È olandese e vive qui per godersi la pensione, che naturalmente ha un valore molto maggiore che nel suo paese d'origine. L'uomo è con me estremamente gentile, accogliente, ospitale. Tuttavia, senza che io provocassi la discussione, il discorso si sposta sul governo italiano, del quale l'uomo inizia a tessere le lodi, in particolare della presidenza del Consiglio e delle sue battaglie contro i migranti. Secondo lui, gli stranieri sono troppi, bisogna fermarli. Non importa se sua moglie bulgara ha vissuto due decenni in Olanda, dove si sono sposati. Non importa se nel piccolo paesino agricolo della Bulgaria centrale nel quale abita, da straniero, di migranti non ce ne siano. Non importa che abbia appena ospitato me, straniero, a casa sua. Impressionato dalle molteplici contraddizioni con le quali gli esseri umani vivono in se stessi, purtroppo troppo spesso, senza farci i conti, riparto e in serata sono a Sofia. Nei giorni che passo in Capitale, incontro alcune organizzazioni che sostengono i diritti dei migranti. Linda Awanis, del Council for Refugees Women in Bulgaria. Il mio nome è Linda Awanis. Sono fondatrice e presidente del Consiglio delle donne rifugiate in Bulgaria, organizzazione che esiste dal 2003. Noi rappresentiamo un ponte tra le rifugiate e le istituzioni, aiutando per esempio con le traduzioni. Interveniamo spesso negli ospedali e nelle stazioni di polizia. Ci chiamano quando trovano i migranti illegali, come dicono loro. Interveniamo anche quando ci sono casi con minori, perché le istituzioni ci conoscono, anche se noi non abbiamo partenariati con loro. Lavoriamo anche con le donne vittime di violenza e con le persone vulnerabili. Succede spesso, infatti, che durante il viaggio le persone subiscano delle violenze o delle discriminazioni. Se non riusciamo a fornire un aiuto, indirizziamo le persone nel posto giusto, per esempio verso un supporto legale. Sono Todor Iliev, avvocato per il centro di assistenza legale Voice in Bulgaria. Lavoriamo principalmente con richiedenti asilo e migranti privi di uno statuto legale. L'Unione Europea non prevede canali di ingresso legali per richiedere l'asilo e questo fa sì che tutti entrino illegalmente. La maggior parte di loro si affida ai trafficanti perché sono organizzati, conoscono le strade e le vie di fuga. Possono trasportare le persone da un punto ad un altro fino ad arrivare in Europa occidentale. Le persone spendono un sacco di soldi e di energie per intraprendere il viaggio fino a qui. Quindi il rischio di essere deportati rappresenta anche la possibilità di un totale fallimento. Oggi il tutto è ancora più complicato a causa della pratica dei respingimenti illegali. Anche una volta entrati nel territorio, le persone hanno paura di chiedere asilo. Temono che le autorità le deportino al confine. Alcune persone sono più fortunate o hanno maggiori possibilità. Per esempio avevo conosciuto degli iraniani che erano arrivati dalla Turchia. Poi hanno pagato circa 10.000 euro per arrivare direttamente in Germania. Ci sono riusciti in sole 12 ore. C'è la questione dei minori non accompagnati che volevo capire meglio, dato che ad Armalli ne ho visti tantissimi, quelli per cui avevamo cucinato con Mission Wings. Giovanissimi che viaggiano in piccoli gruppi passano le frontiere di notte, giornate senza mangiare. Incorrono in rischi ancora maggiori rispetto agli adulti, infanti o adolescenti, tutt'altro che spensierati. I numeri dei minori che tentano di entrare sta aumentando. Vengono soprattutto dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Marocco. Le statistiche ufficiali mostrano che dal 2022 oltre un migliaio di minori non accompagnati sono stati detenuti. Questo significa che i bambini in transito lungo la rotta balcanica sono molti di più. Inoltre c'è anche il fenomeno dei minori scomparsi, perché cercano di continuare la rotta. Non vogliono fermarsi in Bulgaria. Magari iniziano le procedure per la richiesta dell'asilo, ma poi scompaiono, quindi non sappiamo cosa succede loro. Sicuramente molti di loro ripartono per la Germania o l'Olanda, perché lì i servizi per proteggere i minori funzionano meglio. C'è un'altra possibilità che le persone usano per arrivare in Europa. La famiglia paga il viaggio agli adolescenti, ragazzi di 13, 14, 15 anni. Quando questi riescono a ottenere lo status di rifugiato, chiedono il ricongiungimento familiare e quindi il resto della famiglia può arrivare legalmente. Ci sono molti minori che viaggiano in piccoli gruppi senza la famiglia. Quando arrivano chiedono l'asilo e poi il ricongiungimento familiare. Questo accade perché non hanno altra scelta, dato che non esistono altre vie legali per entrare in Europa. In Grecia avevo capito che la tendenza dei governi è quella di disinvestire su qualsiasi programma di supporto, formazione, inserimento sociale delle persone migranti. Anche in Bulgaria, a detta delle organizzazioni che ho incontrato, i servizi sono inesistenti, quindi settore privato, ONG o fondazioni, devono occuparsi di fornire il minimo indispensabile per garantire la dignità delle persone. Non ci sono programmi di integrazione in Bulgaria, quindi è molto complicato rimanere qui per chi lo desidera. Specialmente c'è il problema dell'alloggio, perché gli affitti sono alti. Inoltre ci sono parecchie famiglie con molti figli, famiglie con oltre dieci componenti, per le quali trovare una casa è difficilissimo. E poi mancano gli asili, quindi le madri devono occuparsi di badare alla prole, ma uno stipendio non è sufficiente. Questo fa sì che la maggior parte delle persone vogliano andarsene. Molti non vogliono nemmeno iniziare con le procedure per l'ottenimento dell'asilo. Preferiscono lasciare il paese appena possibile. In Bulgaria molte persone vengono respinte al confine, altre finiscono detenute e deportate, altre ancora riescono a scappare in Serbia, livello successivo del game. Durante il mio soggiorno nel paese non è stato facile incontrare persone in movimento lungo la rotta. Restano nascoste e cercano di passare velocemente in Serbia, cercando in tutti i modi di non farsi scoprire, per paura di essere respinti o di dover lasciare le impronte digitali alla polizia. Questione non di poco conto, perché in questo modo rientrerebbero negli schedati di Dublino, quindi obbligati a restare per molto tempo nel limbo dei documenti in un paese povero di prospettive. C'è però chi in Bulgaria si è fermato ed è estremamente soddisfatto della vita che è riuscito a ricrearsi. Sono Bedu, ho 27 anni, sono originario della striscia di Gaza. Sono qui da 4 anni e ancora stento a credere di avere una nuova vita. A Gaza tutto è controllato da massa. Se non fai parte di loro, non puoi lavorare, non sai nulla. Avrei dovuto combattere con loro. Mi sono laureato in lingua inglese. Amo la vita, la libertà e non voglio morire. Se tornassi ora nel mio paese mi metterebbero in galera, perché sono stato in Europa. Mi direbbero cosa hai fatto in Bulgaria? No, no, no. Se volessi tornare a Gaza mi metterebbero in giro. Perché? Perché al Cairo sono riuscito ad ottenere il passaporto dall'ambasciata palestinese. Quindi ho chiesto un visto turistico di un mese per la Turchia e ho preso l'aereo per la prima volta nella mia vita. Sono andato a Edirne. Ho conosciuto delle persone e con loro ho attraversato il fiume Evros per entrare in Grecia. Da Edirne ci sono due possibilità. Entrare direttamente in Bulgaria o triangolare in Grecia. La barca sulla quale sono salito per attraversare l'Evros trasportava 28 persone. Io e altri due compagni di viaggio siamo riusciti a scappare dalla pulizia di frontiera. Tutti gli altri sono stati presi e respinti in Turchia. In Grecia siamo rimasti cinque giorni. Camminavamo la notte per non farci scoprire. Stavamo per impazzire. Ci sono centinaia di montagne su quel confine. Non avevamo nessuna mappa ad indicarci la via. Poi siamo entrati in Bulgaria ad Armanli. Da lì abbiamo preso un treno e siamo arrivati qui, a Sofia. Il mio obiettivo non era quello di rimanere in Bulgaria. Volevo andare in Olanda e continuare gli studi. Quindi ho provato a continuare il viaggio. Sono stato tre volte in Serbia, a piedi, fino a Pirot, passando dalle montagne, ma mi hanno sistematicamente respinto. Poi mi sono ammalato e dovevo andare all'ospedale. Quindi ho dovuto lasciare le mie impronte digitali qui, in Bulgaria. Dopo otto mesi ho ottenuto l'asilo e alla fine sono contento di stare qui. Ho lavorato per una società che gestiva i videogiochi online. e ora lavoro per Snapchat. I miei genitori hanno sempre appoggiato la mia scelta di andarmene e non mi chiedono nulla. Non vogliono soldi da me. Vogliono solo che io sia libero. Anche per questo mi hanno fatto studiare. In Palestina non c'è futuro. Non vogliono soldi da me. Non vogliono soldi da me. Ma mia famiglia non vogliono niente. Ma vogliono noi vivere liberi. Non sotto l'alliazione. L'alliazione? Sì, c'è alcune persone che stanno perdendo la nostra religione o stanno perdendo il nostro paese. Il West Bank, Ramallah, è molto buono. È troppo giusto. Puoi vivere cristiano e muslimi non c'è problema. Ma in Gaza non c'è. Tu devi andare a Mosque, tu, 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 tu. Ho avuto molti problemi, bro. Ho avuto molti problemi. Prima di ripartire da Sofia, vado a visitare il campo di rifugiati di WN Arampa, che si trova in una zona periferica, dietro il grande cimitero centrale della città. Il campo accoglie principalmente bambini e ragazzini provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan. Staziono a lungo sull'uscio e attacco bottone con chi mi capita. Alcuni giovani mi mostrano delle foto delle camere, sovraffollate, e dei bagni, pieni di immondizia, terribilmente sporchi. L'edificio ha le sembianze di una grande scuola, comprensiva di giardino. Anche qui le bandiere blu con le stelline gialle ricordano chi ha finanziato tutto questo. Decido di avventurarmi all'interno pur sapendo benissimo di non essere autorizzato. Mostro al pigro custode la mia carta d'identità e lui mi facendo di avanzare. Gironzolo in giardino, mi intrattengo a lungo con un gruppo di giovanissimi afghani, ma ad un certo punto passa qualcuno della sicurezza, evidentemente un po' più sveglio dell'uomo in guardiola. Mi squadra, mi chiede spiegazioni e mi accompagna l'uscita. È un altro posto molto triste. Tutta questa gioventù che bighellona nei pressi di questa struttura potrebbe studiare, giocare, innamorarsi, lavorare, viaggiare, vivere. Invece è finita qui, nel limbo dei documenti, dei permessi, e forse riprenderà presto una delle feroci strade che compongono la rotta balcanica. La rotta balcanica in bicicletta è un documentario radiofonico Don Pears, scritto da Giacomo Corticelli, musiche di Giulio De Boni Dovago, produzione, mixaggio e fotografie Don Pears, assistente al montaggio Silvia Beraldo. Iscriviti ai canali social donpears.it per tutti gli aggiornamenti e le foto del viaggio. Tutte le puntate sono riascoltabili sul sito radiondadurto.org e sulle principali piattaforme di podcast. Scopri e sostieni il progetto con una donazione sul sito buonacausa.org slash cause slash donpears. Grazie a tutti.